Questo programma è offerto da Tecnocampus Mercoledì 22 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa Come ogni mattina offerta da Tecnocampus Anche oggi i fatti in primo piano sono tantissimi Si parla ancora una volta di governo Questa volta con un'intervista sul Corriere della Sera Fatta al Vice Premier Salvini E si parla proprio di una continuità di questo governo Non mette in discussione il rapporto con Di Maio Anzi va avanti Mentre l'Ocse ancora una volta dice che comunque non ci sarà crescita per l'Italia D'altro canto però vediamo che la politica si barcamena ancora fra tante diverse prospettive Come ad esempio quella che è la famiglia Ma tanti ancora i fatti Ma cominciamo subito a vedere il Corriere della Sera E vediamo la sua prima pagina E cominciamo a comprendere i fatti di questa giornata E vediamo infatti l'intervista proprio di Salvini Il governo non cadrà La Lega modifica il decreto sicurezza Il Quirinale sta valutando il nuovo testo Matteo Salvini infatti ribadisce che il governo non cadrà Comunque vadano le elezioni di domenica Si va avanti per quattro anni E si andrà avanti perché questo governo ha lavorato bene Modificato il decreto sicurezza E l'Ocse l'Italia crescita zero Questo è l'allarme che ancora una volta viene rilanciato proprio in termini economici E ancora vediamo in retroscena Se cala l'indice di gradimento qualcosa deve essere fatto E vediamo ancora nell'editoriale di Polito Uno più uno ora fa zero E vediamo perché Vabbè che la famiglia è sacra Ma un governo con due politiche della famiglia è un po' troppo Così inizia proprio questo editoriale E una è del ministro leghista Fontana Che sta faticosamente tentando di attaccare un pacchetto di emendamenti Al treno del decreto crescita L'altra è del vice premier Di Maio Che ha proposto un suo decreto legge Appena bloccato dal ministro Tria Perché senza copertura Ossia quello che sta succedendo nelle ore finali della campagna elettorale Riassume alla perfezione il buco nero in cui è sparito il governo Conte Uno più uno non fa più due ma zero La logica del contratto infatti Prevedeva spericolatamente che programmi molto diversi Spesso divergenti talvolta alternativi Potessero sommarsi senza integrarsi E questa volta invece il risultato è tutt'altro che aspettato dalla maggioranza E ancora vediamo l'Europa, il patriottismo, il mio incontro con Macron Una Costituzione può creare un patriottismo, un sedimento forte Dell'appartenenza a uno Stato, alle sue leggi, ai suoi valori, alle sue consuetudini Questa è la domanda che si pone E uno dei molti temi discussi ieri all'Eliseo Nell'incontro voluto dal presidente francese Macron E intanto vediamo nella parte centrale della pagina Si torna a parlare di Can, Pitt, DiCaprio e Margot Robbie Nel nuovo film del regista, le superstelle di Tarantino Per celebrare Hollywood Mentre vediamo anche in primo piano Niki Lauda, l'uomo che tornò dall'inferno Ed è tornato in box per sempre Il grande pilota austriaco infatti è morto in una clinica a Svizzera Aveva 70 anni Aveva riportato in Ferrari, alla Ferrari, ai fasti antichi Era il migliore e non faceva niente per nasconderlo Con la rossa vinse i due mondiali E ritornò alla vita dopo un terribile incidente Che è accaduto nel 1976 Poi creò una compagnia aerea E adesso si torna a una nuova vita E ancora vediamo quella vita di odio e amore Con il nemico dentro casa Libera la ragazza che ha ucciso il padre Infatti l'accusa nei confronti della ragazza È semplicemente quella di legittima difesa Perché dice proprio questo articolo Quando il nemico si trova in casa La situazione si complica E i sentimenti che suscita la violenza Sono davvero contraddittori Come non amare un padre che ti ha portato in braccio Che ti ha accompagnato a scuola Tante volte che ti ha fatto ridere Giocando al nascondino con Così come da bambina Insomma, tante sono i sentimenti Che suscita questo evento Ma tanti sono quelli di disappunto Per una situazione di quelle sempre più terribili E ancora clima Habitat, l'unione, lezione Dal mare del nord Sempre verso il vuoto E nella parte bassa della pagina Si parla di una vicenda tutta particolare Quello che viene definito un eroe del nostro tempo E infatti dice Massimo Gramellini Gentile passeggero furibondo del volo Ryanair Pisa-Bari Ha quasi tutta la mia solidarietà Uno dei miei incubi ricorrenti È salire sull'aereo sbagliato E pensando di scendere a Peretola Ritrovarmi all'aeroporto di Timbuktu Come non comprendere il suo disappunto Quando si è accorto Che la compagnia da cui aveva comprato Un biglietto per Cagliari L'aveva in realtà condotta nel ridente Capoluogo pugliese Ridente per molti Ma non per lei Ripreso dal telefono di un altro passeggero Mentre dà in escandescenze Con il personale di bordo Possibile che nessun controllore Si fosse accorto che sul suo tagliando Era stampato il nome di una città diversa Perché costringerci a passare sotto i raggi X Praticamente in mutande Se poi chiunque può presentarsi al valco Con un biglietto qualsiasi E venire accolto con tutti gli onori Però rimanga tra noi Uno sguardo al tabellone delle partenze Lei l'avrebbe potuto rivolgere E quando la hostess al microfono Avrà dato il benvenuto ai passeggeri Del volo per Bari Avrebbe dovuto attraversarla È il dubbio che l'aereo non andasse a Cagliari Ma effettivamente a Bari L'indulgenza verso noi stessi E pari soltanto all'impegno che mettiamo Nel cercare un caprio ispiratorio Che comunque scaraventi Le responsabilità lontano da noi Come se un ministro dell'interno Di fronte a un nordafricano Con foglio di via Che incendia una caserma di vigili Attaccasse chi lo ha fatto entrare in Italia E non chi si è dimenticato di farlo uscire Cioè lui Chiedo scusa Mi dicono che lo ha appena fatto E insomma Ancora una volta ci sono tante discussioni Ci sono delle metafore Che vengono utilizzate in maniera ricorrente Ma soprattutto questa È purtroppo la nostra sicurezza E l'Italia che si presenta Sempre più complicata Sempre che effettivamente Si possa fare una cosa del genere Ossia salire su un aereo Andare Aspettarsi di andare in una destinazione E trovarsi in tutt'altra direzione Semplicemente perché Un biglietto vale l'altro Insomma Attenzione su questo E ancora vediamo gli altri fatti In primo piano Sulle testate nazionali La verità Anche se bruciano le sedi della polizia Il decreto per cacciarli Non è urgente E questo è quello che viene definito Allarme in migrazione A Mirandola Un marocchino Che si spaccia per minore da fuoco All'edificio della municipale Due sono i morti E a Torino Un nigeriano Morde un agente E gli stacca un dito Ma Movimento 5 Stelle Colle Si impuntano sul decreto sicurezza Forse già oggi L'ennesimo sconto In consiglio dei ministri Multe, espulsioni L'impatri L'ultima versione del testo E ancora vediamo In primo piano Un'altra indagine La vediamo da Panorama Su Baborenzi e Matteo Intanto è pronto A tornare Insomma E nella parte centrale Della pagina Uccidere Lambert Apre allo sterminio Giudice salva il francese Tetraplegico All'appello dei medici Quasi 2.000 Indicappati Stanno come lui E ancora Ciao campionissimo Niki Lauda L'eroe che sfidò le fiamme La rabbia di Enzo Ferrari Il saluto Al grande campione E ancora Varata all'antipovertà L'Inps Ora c'è il presidente Ma non il CDA Come fa in realtà A decidere Ed infine Eccoci qua Gian Piero Mughini Scrive ad Agospia Le liste di Gardner Porcate intellettuali Così le definisce Vediamo ancora Le altre prime pagine Dal fatto quotidiano Vediamo nella parte alta Della pagina Si continua a parlare Degli striscioni Già inviati all'email Del nostro concorso Perdi Salvini Alla violenza si risponde Con l'idea L'ha detto Matteo Salvini Proprio ieri a Lecce E intanto Nella parte alta Si celebra Un anniversario Capaci 27 anni dopo Il PG di Palermo Imbarazzato Alle commemorazioni Stragi Le verità Oltre la mafia Ancora coperte Dai depistaggi Infatti più trascorrono gli anni E più cresce La mia sensazione Di disagio Nel partecipare Il 23 maggio Il 19 luglio Alle pubbliche Cerimonie commemorative Delle stragi Di Capaci Di Via D'Amelio La retorica di Stato Ha i suoi protocolli Ed esige Che il discorso pubblico Consegna alla memoria collettiva Una narrazione tragica E nello stesso tempo Semplice E pacificata Che si può riassumere Nei seguenti termini Giovanni Falcone E Paolo Borsellino Furono assassinati Perché uomini Simbolo di uno Stato Che con le condanne Inflitte Con il maxiprocesso Aveva sfezzato E sferrato Un colpo mortale A Cosa Nostra E ancora Nella parte centrale Della pagina Continuano veramente Gli scontri Proprio In prima linea Altra scomunica Il presidente De Vescovi Bassetti Agli elettori cattolici Cei Votate tutti Tranne Salvini Il leghista Sconfitto pure Dal Tardo Sparra E non andava chiuso Infatti la conferenza Episcopale Contesta L'uso Dei simboli cristiani Fatto dal leader Leghista Attacca i sovranismi E difende La virtù Dell'accoglienza I Cinque Stelle Invece cercano Di ricucire Con i credenti Ma sembra che la spaccatura Sia sempre più grande E soprattutto Sempre più insanabile Visto che Molto spesso E soprattutto In questi giorni Proprio in tanti Hanno lanciato Messaggini Contro i simboli Utilizzati Proprio da Salvini Tra cui il rosario Che secondo molti Non può essere Utilizzato In questo modo E ancora Il decreto Sicurezza La Lega Pretende un nuovo Consiglio dei Ministri Conte però Non lo fissa E intanto Vediamo l'addio a Niki Trionfi L'incidente La leggenda Lauda La Ferrari di Merda Eccoci qua Il pilota Che divenne mito Insomma Così viene definita Proprio da questo Articolo Proprio in questo modo Viene annunciata E ancora vediamo Nella parte sinistra Della pagina Da qui a domenica Che cosa accadrà Ci sono ancora Tanti fatti In primo piano Ma soprattutto Il problema grande Di chi andare A votare In questa domenica 26 maggio Cosa ci aspetterà Questo ancora È difficile da dirlo Però vediamo Che dalle prime pagine Trionfano proprio Gli annunci Di questo genere E ancora Vediamo nella parte Bassa della pagina Ancora una volta Sui quotidiani Ma anche in televisione Compare la figura Di Pamela Prati E vediamo anche Da questa prima pagina I sadici burattinai Dell'amore virtuale Seduttori via Facebook Perfetti e inesistenti Proprio Partendo da questa vicenda Di questa VIP Che secondo Il suo racconto Sarebbe stata Truffata E poi Lo ha raccontato In televisione Ma ancora Vediamo gli altri fatti Ci spostiamo Sul quotidiano libero Che questa volta Racconta Proprio Mette in primo piano Giovane straniero Incendia una caserma Ospitiamo il marocchino E poi Lui ci dà fuoco Accade A Mirandola Modena Due vittime Quattro ferite gravi 20 intossicati Tra cui sei bimbi Il nord africano Con precedenti Fu accompagnato Alla frontiera E poi Ritornò qui E io anche su questo Vorrei Spezzare una lancia Proprio A favore Di quanto viene In realtà Fatto La situazione Che comunque Chi deve essere espulso Alla fine Non viene mandato via Questo probabilmente È l'elemento Cardine Che determina Situazioni Sempre più complicate E questo Purtroppo Dipende Molto Da noi Italiani Ancora Vediamo le crociate Sbagliate Chiese più vuote Mentre i preti Predicano Politica E infine Vediamo Sempre in questa Prima pagina In chieste assurde Botte alla sanità Lombarda Per equipararla A quella del sud E nella parte centrale Della pagina Vediamo il lato tenero Della Meloni Fratelli d'Italia Sono gattolica Aiuto gli animalisti Dice Insomma Anche qui Una sorta di Gioco di parole Che comunque In questo periodo Sembra essere Sempre più Disarticolato E ancora Niki Lauda è morto Grande e sfortunato Si spegne a 70 anni Campione di Formula 1 E infine Nella parte bassa Della pagina Pensate un po' I novantenni di oggi Vengono definiti autentici Birichini Ne combinano di tutti i colori Secondo questo quotidiano Non ci sono più I novantenni di una volta Quelli che Restavano tutto il giorno Con il sedere sulla poltrona Ricevevano Le schiere di nipoti E invece A quanto pare Adesso Compiono Atti diversi E soprattutto Fanno una vita Molto più leggera Ancora Vediamo che Il riscaldamento Globale Secondo questa testata Diventa condominiale I termosifoni accesi Fino a domenica E ovviamente Sembra quasi irreale Però la primavera Tarda ad arrivare E ancora una volta Fa freddo E quindi tutti quanti Con i termosifoni accesi Anche se siamo quasi Al termine di maggio Ormai Siamo prossimi All'estate Eppure Il tempo ancora Non ce lo permette Per quanto riguarda La rasseglia stampa Faccio una piccola pausa Qualche momento di pubblicità Ma non temete Ritorniamo subito dopo Quindi Non andate via Siamo prossimi Siamo prossimi All'incrocio tra Caserta E il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso Progetto di riqualificazione Industriale Che ha messo La qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale Di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Bentornati ancora una volta Teleprima Bentornate alla rassegna stampa Vi ricordo che oggi è mercoledì 22 maggio E ancora una volta Siamo pronti per vedere Tutti i fatti Che riguardano Le notizie più importanti Di questa giornata E ci spostiamo adesso Dopo aver visto Le prime pagine Di alcuni giornali Ci spostiamo ancora Su un'altra testata Che è proprio Il giornale Di Maio e Salvini Tagliano le pensioni Questa è quella Che viene definita La vera e propria Ammazzata Ceto medio Nel birino A giugno doppia sforbiciata Sugli assegna Rischio gli 80 euro E l'Ox svela i piani Di Tria sull'IVA Berlusconi intanto Dice la Lega Mollerà i 5 stelle E intanto Scarica Barile Giallo-Verde La crisi dipende Dal Colle L'alibi del no Al voto anticipato E intanto Si parla ancora una volta Di Huawei Borse e Dazzi La lezione è dimenticata E a quanto pare Viene raccontato Proprio il perché Il protezionismo È un errore Intanto ancora una volta Si parla della vita Di Niki Lauda Che si è spenta Ieri a 70 anni Addio Lauda Mito Ferrari Che sopravvisse all'inferno I trionfi Il dramma Ma anche il coraggio E ancora nella parte Bassa della pagina La strage del clandestino Che rompe sulle elezioni Alle fiamme Sede dei vigili Due morti E venti feriti E nella parte bassa Della pagina Eccoci qua Il piano anti-catastrofe Del museo di Madrid Di Rema del Prado Quali capolavori Salvare Questo è proprio Il dubbio Che in fiamma Questa giornata Ancora la saga Infinita Entra una terza età Rampo sconfigge il tempo In autunno Arriva Pensate un po' Il quinto film E nella parte Più bassa Della pagina Un romanzo Che racconta I ventenni Del ventunesimo secolo Un vero e proprio Fenomeno In Francia I libri Che sembrano essere Sempre più Qualcosa Di irreale Adesso Invece spopolano E a farlo Proprio grazie Questo libro Ma anche Tanti altri Ricordo che siamo Nel mese di maggio Il mese soprattutto Ogni anno Dedicato alla lettura E vi invito anche a Perché no Acquistarlo un libro Oppure andare in libreria E usufruire di quella possibilità Che è la lettura gratuita Ma anche Servirvi dei book roxing Ossia Quello scambio di libri Che vi permette Di leggere Tanto Pur non spendendo Cifre esagerate Ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano Vediamo il tempo Come racconta La giornata di oggi Tria spegne lo spot Movimento 5 Stelle Sulla famiglia Il ministro dell'economia Non esiste Il miliardo di risparmi Dal reddito di cittadinanza Un flop L'ultima arma elettorale Di Luigi Di Maio E la flat tax Sì ma via Gli 80 euro Di Renzi E intanto Renzi lo vediamo Proprio nell'immagine Qui L'unica cosa De sinistra che ho fatto E me la vanno a togliere Insomma Questo è quello Che racconta Questa prima pagina Di questo quotidiano Che è il tempo E ancora Vediamo gli altri fatti Non rimpasto Gigino frena I piani della Lega E i grillini Lanciano infatti La fase 2 Mentre per la legittima difesa Deborah torna libera Monte Rotondo Accusa derubricata Per la ragazza Che ha ucciso il padre Violento Per difendere la madre E nella parte destra Della pagina Iniziati i giochi Per il dopodraghi Grande manovra La B.C.E. Ma l'Italia sta a guardare E ancora La storica sentenza Della Cassazione Nasce da seme congelato Avrà il cognome Del padre E vediamo ancora Gli altri fatti In primo piano La Repubblica E anche da questa Prima pagina Il tema prevalente È quello Delle pensioni Che viene definito Un vero e proprio Colpo di mano L'Inps È diventato Un'agenzia Di propaganda Per l'alleanza Giallo-Verde Il presidente Tridico Privilegia Reddito di cittadinanza Il quota 100 Ed è lite Sul decreto Sicurezza E il quininale Sempre più irritato E intanto L'Europa Verso quello Che viene definito Da Massimo Giannini Il voto necessario Mentre Dall'altro lato C'è un cattivismo Fuori legge E ancora Nella parte destra Della pagina Lauda è il campione Che visse di volte Non si arrese al fuoco Che lo devastò Mascherava il coraggio Con la freddezza E infine Nella parte bassa Della pagina Tarantino Non l'esagerato Anche le sue stelle Adesso piangono Una vera e propria Delusione A Cannes E ancora Ci spostiamo Adesso Su il mattino Andiamo a vedere Proprio la prima pagina Di questo quotidiano E vediamo anche Da questa prima pagina Le notizie in breve Nella parte alta E si parte proprio Dal festival Tarantino Reddican L'ode al cinema Che è un capolavoro Intanto il cantiere azzurro Castagne Dopo Ilicic Assalto all'Atalanta Al Biol Verso la Spagna E ancora L'inedito Quando Croce Confessava gentile I suoi tormenti D'amore E nell'articolo Di apertura Vediamo di cosa Si parla Conte Il gelo del colle Il quininale Infastidito Per essere stato Tirato in ballo In consiglio Di ministri Cambia il decreto Sicurezza Sbarchi Le multe Alle navi Non legate Ai soccorsi Insomma E' un vero e proprio Braccio di ferro Sulla nuova Convocazione Del consiglio Dei ministri Voluta dal ministro Salvini E si registra Il gelo del colle Nei confronti Appunto Del presidente Del consiglio Conte Per aver Tirato in ballo Il quininale Sulla questione Del decreto Sicurezza Su questo documento Che Salvini Vuole subito In discussione Ci sono modifiche Al testo Per quanto riguarda Gli sbarchi Le multe Alle navi Non saranno più Legate ai soccorsi Ancora Tria Stop agli 80 euro Un piano B Anti-IVA E mentre vediamo Nell'editoriale di Balduzzi Nell'Europa da rifare Partiamo dai giovani Insomma Dovrebbe essere questo Il punto di partenza Molto spesso Invece Non lo è E anche oggi Ancora non lo è E intanto Deborah Libera Con le sue paure Volevo fermare La follia di papà E la procura dice Si è difesa E vediamo ancora Le parole di questa ragazza Papà stava per strozzare Mamma Allora ha avuto paura Ho preso il coltello Gli ho detto Fermati Lasciala stare Basta papà Ma lui si è mosso E la lama Si è infilzata Assurto L'orecchio destro Deborah è sconvolta Ricostruisce L'uccisione del padre Intanto torna libera Si configura Adesso La legittima difesa E vediamo L'intervista Ha salvato la famiglia Ora va aiutato Va aiutata A parlare da Ciamaraini La violenza in casa Sta diventando Sempre più drammatica E questo assolutamente È vero Il luogo che dovrebbe essere Sinonimo di protezione Diventa qualcosa Di assolutamente Indescrivibile E la famiglia Molto spesso Tale non è E ancora le idee La stanca commedia Del governo Uno e Trino Raccontato da Dinofi Quasi come se stessimo In un momento Di forte Celebrazione Liturgica E nella parte bassa Della pagina Vediamo quelle che sono Le trappole digitali L'iPhone X Per un solo euro Diraga la truffa Sui cellulari E infatti iPhone X S è il nuovo Di zecca In vendita Soltanto un euro Troppo bello Per essere vero E infatti Si tratta di una Bella e ingegnosa Truffa Mai promossa In online L'offerta viene Prima pubblicizzata Attraverso i social Per poi rimandare Attraverso un link Ad un sito Civetta Che ricalca La grafica Di alcuni dei quotidiani Italiani più prestigiosi Che in un articolo Spiega come sia possibile Usufruire Della fantastica promozione Tutto è studiato Nei minimi dettagli Per convincere Anche i più esperti L'articolo online Induce a fidarsi In ciecamente Su quanto viene scritto In tanti ci sono cascati Su queste pagine Sono online da mesi E ancora ieri Era possibile trovare Gli annunci su facebook Se dopo tanto tempo Questi specchietti Per le allodole Sono lì Vuol dire che Che il modello di truffa È stato studiato talmente bene Da funzionare ancora Insomma Le truffe Noi crediamo Di essere immuni Eppure molto spesso Ci lasciamo ingannare Con la semplicità Proprio quella Che viene adottata Per i bambini Un euro Per un cellulare Parliamo di un iPhone Ci sembra irreale Eppure ci crediamo Come è possibile Io me la farei Questa domanda Anche perché molto spesso Ci lasciamo ingannare Da cose ben Più grandi E ci riteniamo Molto spesso Tanto furbi Ma in realtà Non lo siamo E vediamo ancora Le prime pagine dei quotidiani Il manifesto Nella giornata di oggi Nella parte alta Si parla ancora Di Salvini Che lima il testo Si approvi subito Il decreto sicurezza bis Nuova bozza Ma restano le sanzioni E intanto Vediamo che la CEI Avvisa Non votate i soranisti Assemblea generale Dei vescovi Infatti la conferenza Episcopale italiana Non vota Salvini Emerso chiaramente Dall'intervento Introduttivo Del presidente Dei vescovi Gualtiero Bassetti All'assemblea generale Della CEI Bassetti è invitato A partecipare Al voto Di domenica Ammonendo Sul pericolo Dei sovrani E dei populismi Insomma L'apertura Politica Di questo Di questa nostra Chiamiamola Classe Cattolica Sembra essere Il primo piano Di questa giornata E vediamo ancora Qual è l'articolo Di apertura Vediamo come titolo Oggi Eccoci qua Così è Serriace La cittadina calabrese Simbolo dell'accoglienza Resta nel sistema Di protezione Di chi chiede asilo Un giudice Ha dato infatti Torto a Salvini Che a colpi Di decreti Aveva deciso L'espulsione Mimmo Lucano Racconta perché Vuole tornare in comune E non andare Invece a Bruxelles E ancora Continuiamo a vedere Le altre prime pagine Dei quotidiani Dal dubbio Siamo partiti Questa mattina Vedendo e sfogliando La verità Dalla verità Passiamo al dubbio Ed eccoci qua Patrocino Ecco il DDL Più tutela All'avvocato Verato il testo Buona fede Mascherina Impegni mantenuti E sulla sicurezza Accolti i rilievi del colle Decreto famiglia Movimento 5 stelle All'attacco Con norme meno severe E ancora Vediamo sempre In questa prima pagina Lauda Il campione del mito Non l'ho mai lasciata da sola Nemmeno per un attimo E sta parlando ovviamente Della sua Ferrari E Ignazio Marino Che si definisce Io vittima Della gogna mediatica E infine Nella parte bassa Della pagina Si parla Di caso Lamberta E fine vita Perché sì Il rispetto e pietà Secondo Angela Anzaro Con le nuove conoscenze scientifiche L'accanimento terapeutico Diventa sempre più invasivo E disumano Nessuno può sostenere Che si tratta del rispetto Per la persona E dall'altro lato Il perché no Libertà è sempre Di Gaetano Quagliariello L'aspetto più paradossale È il silenzio Dei paladini Dell'autodeterminazione Pronti ad insorgere Solamente Quando la volontà soggettiva È indirizzata verso la morte E ancora cambiamo proprio argomento Lasciamo stare le polemiche Almeno quelle relative Al fine vita E vediamo E lo sport In questa giornata Come viene presentato Da Corriere dello Sport Che in primo piano Mette proprio la figura Di Nicky Lauda L'addio a Nicky Lauda L'uomo che visse due volte Definito l'immortale Ha cambiato la Formula 1 Visto la morte Conosciuto la paura Ha sfidato il Drake E dominato il mondo Aveva 70 anni E Montezemolo Dice era un eroe E ancora Conte in cassa E firma Il tecnico Vince la battaglia legale Con il Chelsea Condannato a pagare 10 milioni di euro Adesso è pronto A formalizzare L'accordo con l'Inter Ancora Roma E il no di Ersha Il nuovo contratto Dela e Ancelotti Rifanno il Napoli Mentre c'è un Benevento Show Che vede un pezzo di A E insomma Sembra che comunque Stia avanzando E da tutto sport Toro Milan Si gioca alla UEFA Il K.O. di Empoli Non chiude definitivamente Le porte dell'Europa E Granata Ed ecco perché E intanto Nella parte centrale Della pagina Juve Casa Mia Pogba Domenica è tornato a Torino Per la festa d'addio Di Balzagli Ancora una volta Ha ribadito Il suo amore Per i bianconeri Siete sempre La mia famiglia Intanto nella parte destra Vediamo l'effetto Conte Ha spento l'Inter Sfiduciato Spalletti La squadra Si è sciolta E ancora Bologna 3-3 con la Lazio Il punto che porta Alla salvezza Infine vediamo L'ultima testata Per questa giornata Il quotidiano sportivo E nella parte alta Il diavolo cambia ancora Leonardo Già i saluti Ora più poteri A Gazzidis Il Giro dell'area sport Infatti aspetterà La gara con la spalla Per dare l'addio Ai rossoneri E nella parte centrale Juve colpo in serbo C'è già l'accordo Con Milinkovic Savic Ma resta da convincere La Lazio Ha ancora ballottaggio Sarrinzaghi Per il dopo Allevi Intanto per il ciclismo Il Giro d'Italia L'arrivo a Modena Super de Mare Beffa Viviani Conte resiste E sull'equitazione Piazza di Siena L'Italia cerca Uno storico Tris E per quanto riguarda Le notizie che arrivano Dai quotidiani nazionali Per oggi è tutto Vi lascio qualche attimo Di pubblicità Ma la rassegna stampa Non termina qui Quindi non andate via Perché dopo La pubblicità Vediamo tutti i fatti Della regione Campania Della regione Campania All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Bentornati in studio Vi ricordo sempre che è mercoledì 22 maggio Ancora una volta siamo pronti Per affrontare le tematiche Che riguardano la regione Campania E ancora una volta Iniziamo questa rassegna Delle notizie che ci sono più vicine Con il quotidiano La Repubblica E vediamo proprio che si parte Da io e Pino Daniele Fratelli antirazzisti Il mio striscione alla finestra Contro Salvini Il mio è stato Un grido di umanità Ancora una volta in primo piano Proprio gli striscioni Questa lega è una vergogna Lo diceva anche mio fratello Pino E infatti vediamo Nell'immagine proprio Il grande fratello Sono cresciuto a pane e solidarietà Quando ero bambino ricordo Che ogni volta che le zingare Passavano nei pressi della casa Dove abitavamo mia madre Dava loro qualcosa da sempre Per carità cristiana O per buon augurio Mio padre era un portuale Da bambino Mi portava sempre con lui Sulle navi Ed io osservavo Pieno di meraviglia Guardandolo parlare Con uomini di colore Una lingua a me sconosciuta Qualche volta Qualcuno di queste persone Veniva con lui a casa E il papà ci spiegava Che erano africani O americani O brasiliani Oggi resto basito Quando accendo la televisione Vedo questi attacchi Sproporzionati Questa violenza Allo stato puro Contro rom Africani E migranti E passiamo adesso Ancora ad altri fatti In primo piano Da Napoli In particolare Castellammare Estorsione al mercato Dei fiori Blitz contro il clan Cesarano Sette gli arresti Un'operazione Congiunta di carabinieri E guardia di finanza E infatti si parla Di lesioni Ed estensioni E estorsioni Nel mercato Dei fiori Di Castellammare Di Stabia E Pompei La zona florovivaistica Più importante Del sud Italia Che vediamo Ritratta in questa immagine Un incubo per gli imprenditori A cui ha messo fine Un'operazione Di carabinieri San Domenico Però questa volta Non per Noemi Non per i fatti relativi Alla regione Campania E agli ospedali Ma per qualcosa di più grande Ossia Radio Radicale I radicali Per il mezzogiorno europeo Hanno manifestato Ieri 21 maggio A Napoli In piazza San Domenico Maggiore Obiettivo del flash mob Indetto dai radicali Sensibilizzare L'opinione pubblica Sull'ormai imminente chiusura A meno di cambiamenti Nello scenario Di radio radicale I militanti Hanno sventurato Le bandiere Di radicali italiani Cartelli con slogan A sostegno della radio E si sono bendati la bocca Per tutta la durata Della manifestazione Con del nastro adesivo Tra i partecipanti Militanti storici Napoletani Mirodolfo Viviani E Domenico Foscolo Oltre a Pietro Ioia Leader degli ex detenuti Organizzati di Napoli Ma anche molto vicino A radicali Per il mezzogiorno europeo E ancora vediamo Gli altri fatti Raccontati Nella giornata di oggi Vediamo un'immagine Piuttosto inquietante Eccola qua Vediamo degli escreventi Il problema è dove E infatti Cavalleggeri Topi Pensate un po' Nell'asilo nido Marco Polo Rivolta delle mamme Al rientro Dopo sei mesi Della sede ristrutturata E a quanto pare Un rientro avvenuto Nella giornata di ieri Dopo i lavori Dopo la soluzione Di questa struttura Adesso Gli escreventi di Topi Sono stati rinvenuti Immediatamente fotografati Dalle mamme Che hanno chiesto L'intervento Delle forze dell'ordine Abbiamo ritrovato Feci nei rettini Dove i bambini dormono Nei cassetti dove avevamo Riposto le loro cose Ed è un fatto gravissimo Siamo preoccupatissime Non faremo rientrare I nostri figli Fino a quando Non avremo garanzie Su agibilità E disinfestazione E un gruppo Di queste mamme Si è recato Nella sede Della decima Municipalità Ricordiamo che sono bambini Ma a prescindere Dall'età Di chi comunque Deve usufruire Di determinati luoghi Ci vuole la tutela E la sicurezza Della salute pubblica Ancora vediamo I fatti di Napoli De Jesu Nominato prefetto Per Roma La pubblica sicurezza Lo che è Al consiglio dei ministri La questura partenopea Attende ora La nomina Di un nuovo capo E infatti Su proposto Il ministro In interno Il consiglio dei ministri Ha deliberato La nomina Prefetto Del questore di Napoli Antonio De Jesu Il numero uno Della polizia Di Napoli Svolgerà le funzioni Di vice direttore generale Della pubblica sicurezza Per l'espletamento Delle funzioni Vicarie Presso il dipartimento Della pubblica sicurezza A breve sarà nominato Il successore Di De Jesu Che prenderà il suo posto Nel ruolo Di vertice Della questura partenopea E ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Andiamo a vedere Dalle pagine Del mattino Ancora una volta Si parla Di cronaca Tutta napoletana Mancano le lenzuola A Napoli Ospedali in ginocchio E infatti Gli ospedali in Napoli Scarseggiano Le lenzuola pulite Da giorni Le forniture di fede Le coperte Traverse sterilizzate Procede col contagocce La penuria estesa A tutti gli ospedali Dell'Ansa Napoli 1 E comprese Le grandi strutture sanitarie Come Cardarelli L'azienda dei Colli Il Pascale E il Santo Bono Una situazione Si rascena Almeno una settimana Finora fronteggiata Con soluzioni Tampone Ma è impossibile Andare avanti In questo modo Ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Sempre la cronaca A Napoli Uccisero 19enne Dopo una lite E adesso Arrivata La decisione No all'ergastro Troppo giovani E infatti Non ha chiesto L'ergastro Non è invocato Il fine pena Mai come sbocco Scontato In un processo Per l'omicidio Di Emanuele Enrico Un ragazzo Di appena 19 anni Ha chiesto invece Una condanna A 30 anni Per i due imputati Anch'essi Giovanissimi E incensurati Legati alla vittima Da un destino comune Essere figli del Conoc Alla una sorta Di Bronx Minore Dove in questi anni Si sono alternate Faide di camorra Armistizi Fiammate di violenza Trego Sempre e comunque All'ombra Delle piazze Di spaccio Alla 412 Grupp Rosaria Maria Offieri Parla PM Henry John Woodcock Che condusse Un'inchiesta Lampo Combinata Mesi fa In un blitz In Calabria Dove vennero Arrestrati I fratelli Nicola E Anthony Spina Oggi di 23 E 19 anni Ritenuti Appunto Responsabili Dell'omicidio Del 19 Un diritto Avvenuto Al termine Di una lite Per la spartizione Dei proventi Di un bottino E adesso Ovviamente Il ragionamento Del PM E' proprio quello Che non si può dare loro Nel gastro Proprio perché Troppo giovani E ancora una volta Si parla invece Di ergastro Però questa volta Per un'altra vicenda Si parla di ergastro Per il complice Del killer Di Vincenzo Il padre Del 25 anni Ha avuto la giustizia Terrena Ora Attendo Quella divina E stiamo parlando Dell'omicidio Di parete Ha aiutato Ciro Guarente Il cuoco Della marina militare Già condannato All'ergastro Con il rito Abroviato Di uccidere Vincenzo Ruggero Nativista 25enne Di parete Del mondo gay Ucciso Fatto a pezzi E sciolto Nell'acido Ad Aversa Nel luglio Del 2017 La corte d'assise Del tribunale Di Napoli Ha condannato All'ergastro Con un anno Di isolamento Diurno Francesco De Turris Che secondo La ricostruzione Degli inquirenti Avrebbe aiutato Proprio Guarente A commettere Quell'efferato Delitto Fornendo al killer L'arma utilizzata Per commettere Appunto L'omicidio E ancora Vediamo Gli altri fatti Sempre da questo Quotidiano online Che è Caserta News L'Ampis Lascia la reggia Con numeri positivi A marzo 20.000 visitatori In più Rispetto a 2018 Il reggente Ha incontrato La nuova direttrice Maffei Da ricordato Il lavoro di dialogo Fatto col personale E di sindacati Dopo la guerra Con Mauro Ferricori E li vediamo Entrambi ritratti In questa immagine E infatti Antonio Lampis Si appresta A lasciare La guida Della reggia Di Caserta Tiziana Maffei Appena indicata Al ministro per i beni Culturali Alberto Bonisoli Quale nuova direttrice Del palazzo Van Viteriano L'indomani Della visita privata Della neo guida Il reggente Ha voluto tracciare Reso conto di quello Che è stato Il suo percorso Nel capoluogo Di terra di lavoro Insomma Una serie di eventi Positivi Un rilancio Per questa struttura Che adesso Dovrebbe ripartire Ancora di più E ancora vediamo Gli altri fatti Da Marcianese Ancora un fatto Di cronaca Un brutto fatto Per l'intera comunità Marcianisana Trovato senza vita Nel garage di casa La vittima è un operaio Di 33 anni Sul caso Indaga la polizia E già nella notte Sono arrivati I commenti Del primo cittadino Di Marcianise Antonello Velardi Che dice Una sconfitta Per tutti E infatti È una tragedia Avvenuta Al rione Puzanello Di Marcianise Un ragazzo Di 33 anni Sposato E senza figli È stato trovato Senza vita Dai suoi familiari Nel garage Nel garage Di casa Immediatamente Sono stati Allertati i soccorsi I medici Nell'ambulanza Prontamente arrivata Non hanno potuto Fare altro E constatare L'avvenuto decesso Sul caso Indaga la polizia Che sta effettuando I rilievi del caso In attesa Delle disposizioni Il magistrato Di turno Della procura E Santa Maria Capovetere E sul posto Intervenuta Anche la polizia Municipale E ancora Vediamo gli altri Fatti in primo piano Nelle testate locali Nel tricentenario Della confraternita Di San Nicola Di Bari Vediamo che cosa accade La più antica istituzione Religiosa Di San Nicola La strada Celebra infatti I primi tre secoli Dalla sua fondazione Sabato 8 giugno Dopo la solenne Messa in Santa Maria Degli Angeli Sarà scoperta E benedetta Un'epigrafe Commemorativa Collecata nella Cappella Sede In via Bronzetti Domenica 22 settembre Poi il rituale Cammino con tutte Le confraternite Della diocesi Di Caserta Per le strade Della città Di San Nicola Raccontarle Il Corriere di San Nicola Che vede In questo evento Storico Qualcosa di Veramente importante E infine Vediamo Da Caserta Focus Che cosa è accaduto Ieri Il processo A Pinocchio Gli alunni Delle scuole casertane A Montecitorio E infatti Eccoli qua Vediamo Le immagini Di questo evento E nella giornata di ieri Lunedì Nella giornata di lunedì 20 maggio Si è tenuto Nell'aula di Montecitorio Alle 15.30 Lo spettacolo teatrale Il processo a Pinocchio Un progetto di Unicef Italia Ispirato proprio Alla convenzione Onus I diritti dell'infanzia E dell'adolescenza Prima dello spettacolo Introdotti da Geppi Cucciari Sono intervenuti Il presidente Della Camera Dei Deputati Roberto Fico La vicepresidente Mara Carfagna E il presidente Dell'Unicef Italia Francesco Samengo Intanto vediamo Che ancora Le immagini Scorrono proprio Su questo argomento E noi terminiamo qui La rassegna stampa Come ogni giorno Vi ringrazio Per aver scelto Teleprima E per essere stati con noi In questo momento Di informazione E come ogni giorno Ringrazio anche Tecnocampus Che ci offre la possibilità Di raccontarvi i fatti E farlo con un commento Molto spesso Semplicemente critico Per quanto riguarda La giornata di oggi È tutto Vi lascio agli altri programmi Di Teleprima E vi invito sempre A seguirli E vi rinnovo L'appuntamento Alla giornata di domani Buona giornata a tutti E ciao Questo programma È stato offerto Da Tecnocampus Buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti